Non ho le regole, sinchini lei per favore, io non potrei dire Oddio, oh signora, mi scusi, dovevo farlo io che sono l'uomo Oddio, faccierei dopo Le piace qui signorina, è carino no? Un po' scomodo in ginocchio No, no, io sto benissimo veramente Signorina Silvani, io vorrei, insomma vorrei dirle la cosa più importante della mia vita Dica Beh, ha visto i pesci rossi? Sì, e allora? Sono Triglie Cos'è, che succede? E beh, succede che da sette anni, da quando l'ufficio personale... Okazamà, sake Cos'è? Sake, il famoso vino di riso giapponese Ah, bene Grazie Grazie Ma cos'è il piumofuso? Ma no, signorina Silvani, va bevuto molto caldo Ma allora lo beva lei? Vedi, il segreto è buttalo giù tutto d'un fiato e allora non fa niente 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 Vedi, l'acqua è fresca Vedi signorina Silvani, io ho sette anni che cerco di farle capire che io... Oh bene Oh bene Buon matasso itasしました Tarhe oisii desu, demo atchii desu, kara Osavari naranai de kudasai, ni sendo ma armi as kara Come? Gaketoします Ah, sì Ecco Che ha detto? Cioè praticamente dice che insomma che... insomma ha detto buon appetito Com'è colto? Lo so ma è più che se ti ha... Ma perché fanno così? Come? Dico perché tirano i piatti? Qui dice Ah, beh sì, è perché è un'usanza tipicamente giapponese Sì, come i russi, no? Sa che i russi tirano i bicchieri Ecco, qui invece tirano i piatti La prego, lo faccia anche lei Ho paura di non essere capace bene Che non mi venga bene l'urlo Una volta solo Per me Lo faccio Bene Che bravo L'urlo l'ha riuscito proprio bene, ragioniere, sa? Ragioniere, che fa? Sto controllando la temperatura dell'acqua delle triglie Comunque, signorina, io... È da sette anni che cerco di dirle Oi, omochidou-sama, ike-zokui de goza-nasu Ike-gai-des-kara-nee Vive, eh Che ha detto? Eh, ha detto che le fa la Livornese Sa, con un po' di aglietto in una catturolina la mia... Le ha fatte a tocchetti Grazie Ma come, crudo? No, no, alla piastra Crudo Lo fa crudo Mangiate Mangiate, mangiate per carità, non protestate, anzi sorridete Ma non con le mani pazzi, con le bacchette Ha capito, con le bacchette No, 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 no